Della stagione 19-20, benvenuto nella famiglia Rosso Blu, con quale spirito e entusiasmo arrivi a Bologna? Anzitutto grazie, poi con grandissimo entusiasmo perché vengo in una società importante che vive di calcio ormai da tanti anni, ha fatto un anno comunque l'anno scorso dove ha avuto delle difficoltà all'inizio ma poi ha finito la stragrande, quindi cerco di portare un entusiasmo ma sono convinto che ce ne sarà veramente tanto. Abbiamo conosciuto da avversario, inizierà la tua terza stagione in Serie A, quindi è un campionato che comincia a conoscere abbastanza bene, cosa ne pensi? Sì, sicuramente sono alla terza stagione, quindi ho fatto qualche partita, mi metterò a disposizione come ho sempre fatto precedentemente, cerco di dare il mio apporto alla squadra. Che tipo di difensore sei? Sono un difensore penso classico italiano, che cerca di essere molto efficace, cercando di togliere meno spazio agli attaccanti, quindi sono convinto che però il reparto sia la cosa più importante. Sei in forma, sei pronto, vacanze già finite, a che punto siamo? Sì, sì, no, no, sono pronto, sono venuto anche qualche giorno qua apposta per prepararmi, quindi sono molto carico.